Ma come è potuto succedere? Anche il terzo nome è bruciato, Conte dice che è colpa sua, però dice anche che è colpa sua nel senso che si rivendica la responsabilità, è una persona che aveva scelto lui, ci sono anche le polemiche sul fatto che potesse averlo conosciuto, fosse in qualche modo una persona che conosceva al tempo del tentativo di avere la cattedra, la sapienza, appena stato nominato presidente del Consiglio nel primo governo e lui dice no, non lo conoscevo. Insomma c'è tutta questa gamma di argomenti. Come è stato possibile secondo lei? Guardi, l'assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Consiglio è un atto assolutamente apprezzabile, di trasparenza, di un processo decisionale sfortunato, con una costellazione di infortuni che come ovvio che sia era meglio evitare. Ci ho detto, credo che il punto di fondo sia che in Calabria come nel resto d'Italia è in atto un'emergenza sanitaria, che la Calabria ha un'esperienza di anni di gestione molto complessa della sanità che ha portato al commissariamento. Credo che il punto di fondo sia nominare rapidamente un nuovo commissario, una figura di eccellenza, che sia in grado di aiutare la Regione e i calabresi ad affrontare un'emergenza sanitaria che sta colpendo duramente tutto il Paese. E il ruolo di Ginostrada, che sembrava che dovesse affiancare, poi è stato lasciato un po' a bagnomaria, poi è stato recuperato come supporto della protezione civile, però Spirli non lo voleva. Io credo che l'accordo tra Ginostrada e la protezione civile invece sia un fatto positivo, è un accordo coerente con il profilo di Ginostrada, che potrà aiutare la sanità calabrese a reggere al meglio un'emergenza sanitaria di gravi proporzioni. Quando lei dice che sarà una scelta di eccellenza, quelle precedenti sono state scelte, le hai detto sfortunate, ma non erano eccellenti? No, io ho semplicemente fatto un auspicio, i calabresi meritano una sanità all'altezza dell'emergenza sanitaria in atto e la figura commissariale deve essere coerente con questo obiettivo. Grazie. Grazie.